Parede Rossi fervono i lavori per la seconda edizione del TEDx Vasto nel formato estivo, a metà giugno si tornerà con l'appuntamento che l'anno scorso ha esordito molto bene. Come vi state muovendo? Sì, i lavori in corso, al momento non possiamo dire molto per motivi di embargo, come si suol dire nel gergo. Ci sarà il prossimo evento, la seconda edizione a metà giugno. Stiamo già lavorando alla scelta dei temi degli speaker che speriamo siano di altissimo livello come lo scorso anno e come l'edizione countdown di dicembre. L'obiettivo è portare la filosofia TED a basso nuovamente cercando di attirare il più possibile anche persone dall'introterra. L'anno scorso a giugno con Remare ci sono state tante testimonianze che hanno dato prova di come darsi da fare e ognuno nel proprio campo per portare sviluppo e concretezza. Anche con il countdown di dicembre è stato un evento più monotematico rivolto all'ambiente, ai cambiamenti climatici. L'idea di fondo che è portata avanti da questi eventi è quella di innescare comunque riflessioni e voglia di poi impegnarsi. Assolutamente, posso anticipare che il tema di quest'anno sarà legato alla trasformazione, al generare un impatto su tutto ciò che c'è intorno a noi senza rimanere immobili, rimanendo quindi sul filone del Remare e sul countdown, ossia reagire ai cambiamenti climatici, reagire al tempo che passa inesorabilmente. Stiamo lavorando a un panel di testimonianze che abbiano un legame con il territorio, magari non a livello di sangue ma a livello di esperienze professionali e personali, con l'obiettivo di provare a generare un cambiamento anche nel territorio di vasto, molto spesso bisfrattato in primis da noi abitanti. Ci sono tanti giovani che si danno da fare per l'organizzazione di questi eventi, molti lavorano anche fuori e poi danno il loro contributo, molti stanno qui sul posto e non si sono mai mossi, molti anche sono quelli che in questi anni per anche cause di forza maggiore sono tornati. Nella generazione 30-40 anni si sta dando da fare? Sì, diciamo che la cosa più bella di questa esperienza è l'aver creato da zero un team, per caso possiamo dirlo, che è molto coeso, è molto affiatato e che fa chilometri per tornare per un weekend, non a riposarsi ma a stancarsi poiché il TED è bello ma dietro c'è tanto lavoro e sapere che persone affrontano voli transazionali per essere qui a vasto ad aiutarci a creare un evento di altissima qualità riempie d'orgoglio. La forza del nostro comitato è proprio questa, di aver messi insieme persone che per lo più sono uscite, sono state fuori, hanno fatto esperienza ma hanno sentito il bisogno di ritornare qui per provare, tra virgolette, a cambiare le cose. E questa è la nostra forza poiché ci permette di avere uno sguardo di insieme sulla situazione odierna. E tra poco parte anche il movimento sui social quindi sarà possibile seguire tutti i lavori in corso per l'appuntamento di giugno e quindi scoprirlo volta per volta e decidere di partecipare. Esatto, in linea con l'approccio smart voluto da TED la nostra comunicazione verterà per do più sui social, Facebook, Instagram e il nostro sito web con l'obiettivo di entrare più in contatto con i futuri spettatori dei TED. Presto vi annuncio anche che riapriremo alla possibilità di diventare volontari dei TED poiché non vogliamo rimanere un ecosistema chiuso ma vogliamo includere più persone possibili che hanno voglia di fare e hanno voglia di mettersi in gioco.